Mamma, c'è la Befana? La Befana? Basta, la Befana ha 13 anni! La Befana, Babbo Natale, sono i genitori. Sono loro che comprano i regali. E lei chi è? Oh mio Dio! Ma è la Befana? Ma sei bella tu, sei bella. Edoardo, c'è la Befana! No, 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 no! Scusi signore, è qua che si fanno i tamponi. Ma che tampone? Non è che ho una abitazione privata, devo andare in una farmacia, all'ospedale. No, no, no! La farmacia, ma è pure un po' tardi. C'è la zona rossa, io sono anziana, sono a categoria a rischio. Quasi quasi mi fermo qua, che c'è stato un po' di calduccia. Anzi, lo sapete che vi dico? Sapete signore, io mi sento pure qualche linea di fermo. Oddio, aprite le finestre! Aprite le finestre! Mi mettono un po' che riposare, signore. e non voglio riposare. Ma cosa fa? Dorme? Ma non ci posso credere. Ma sta dormendo? Prima di freddo! Ma non ha dei regalini, del cioccolatino? Ma cos'è carta? E certo che è carta! Stava andando a fare la differenziata! Ma non avrebbe un dolcetto, qualche regalino per mio figlio? Ancora con i dolcetti regalini? Ma non lo sai che sono i genitori che fanno i regali? Che la Befana non esiste! Lei allora chi è? Io so un collega tuo senza lavoro! Ecco chi so!